Siete una vergogna voi del PD! Siete una vergogna! Io ho lavorato con gli immigrati, voi siete una vergogna! Avete fatto le regge apposta! Sono firmati uno che urla, è uno che urla! Perché sono firmati uno che urla? Dai, per favore! Io sono in casa mia! Guarda, portavo la disegnata stessa! Perché lavoriamo per la stessa cosa? Eh, allora, lo vedi? Ah, no! Lo vedi? Solo che loro non lavorano per questo! Vai a vedere chi c'è lì! Ma come basta? Stavo urla! Cosa c'è? Minniti, di quale partito è? No, dimmi, Minniti di quale partito è? Rispondimi! Dimmi! Ah, brava! Allora hai detto tutto! Il problema è Minniti, quindi è stato Minniti! Minniti e gli altri! Sono tutti uguali, guarda, questi qua! Hai convinto che il Partito Democratico non cambierà? No, assolutamente! Assolutamente no! Ci hanno sempre preso il culo, ho capito! E cosa c'è da cambiare nel PD? Nel PD? Direzione, totalmente la direzione! Dovrebbe diventare un altro partito, quello che pensavamo che dovesse essere qualche anno fa!